Tommaso e Cecilia Pampinella, anzi forse vorremmo dire Cecilia e Tommaso Pampinella visto che Cecilia è arrivata prima e Tommaso è arrivato secondo a Campione Italiana insomma è bello che una famiglia riesce a conquistare questi grandi risultati a livello tricolore Sì, sì, quest'anno è stata la prima volta che Cecilia è riuscita a gareggiare anche con gli atleti più grandi quindi ha riuscito a fare qualche tappa con la categoria Under-14 e ha riuscito anche a gareggiare con gli atleti più forti e anche senior quindi è stata la crescita evidente Quindi Cecilia ci racconti questo connupio ma anche questo bel successo che è arrivato per te Sì, sono molto felice di essermi aggiudicata a questo titolo per la seconda volta Diciamo che hai già gareggiato a livello internazionale, hai fatto alcune gare fuori d'Italia Poi gareggi anche con le atleti più grandi di te, per cui insomma c'è un altro aspetto importante di questa tua soddisfazione Sì, sì Poi so anche che Tommaso è il tuo allenatore, è vero? Sì, sì Quindi come va con lui? È un po' severo? Magari anche a casa quando siete lontani a modo del paddle surf ti dice qualcosa su come migliorare? Sì, sì, mi aiuta molto, mi dà i consigli soprattutto per andare bene in gara Tommaso, com'è essere l'allenatore di tua sorella? È stimolante perché lei apprende molto facilmente quindi riesce a fare dei grandi passi anche con poco tempo quindi ti dava anche belle soddisfazioni So anche che hai il sogno di poter vincere il titolo però con la categoria superiore, è vero? Under 18 E magari farei qualche risultato importante a livello internazionale? Spero di sì Tommaso, chiedo anche del secondo posto che hai raggiunto tu a livello italiano C'è soddisfazione per questo raggiungimento della posizione oppure c'è anche un pochino di amarezza per non aver raggiunto il primo posto? Ma alla fine c'è molta soddisfazione perché se ripensiamo all'inizio del campionato la prima gara sono arrivato sesto, settimo quindi sono partito un pochino col piede sbagliato poi dopo sono riuscito bene a riprendere e alla fine mi sono ritrovato secondo all'ultima giornata e ho detto ok adesso possiamo giocarci a tutta l'ultima tappa ma ho fatto il mio Quest'anno a livello rispetto agli altri anni era molto più alto questo è un simbolo del sub italiano che è sempre più in crescita quindi i primi 6-7 atleti all'italiano sono molto forti soprattutto in ambito mondiale I ringraziamenti particolari vanno alla Lega Navale Italiana che ci mette a disposizione tutti i spazi, l'attrezzatura per affrontare gli allenamenti tutti i giorni e ai miei sponsor a JP Australia e nel Pride che mi sono sempre appresso per quanto riguarda il materiale soprattutto i viaggi quando vado all'estero e alla federazione che è Surfing FISV, federazione italiana scinotica wakeboard per fare sempre un campionato sempre più competitivo Grazie a tutti